Il futuro non esiste virgola concretamente ma esiste qui e la cosa più interessante è e questo è il mio lavoro io sono architetto urbanista ma sono anche antropologa e cercare di capire come il futuro si pensa non quello che succederà questi sono quelli che si chiamano futurologi io non mi occupo di quello che succederà a me quello che interessa è capire come oggi noi pensiamo al nostro futuro il futuro è qualcosa di è una costruzione il futuro non esiste concretamente cioè nel senso che il passato lo possiamo toccare il passato tocchiamo i muri vediamo i monumenti il patrimonio queste sono quelle che noi chiamiamo rappresentazioni del passato e sono lì le vediamo questo palco questo edificio noi stessi anche ma il futuro no cioè non possiamo toccare niente neanche le nuove applicazioni sono il futuro perché sono state pensate cinque anni fa quindi abbiamo uno strano rapporto e il futuro è qualcosa che fondamentalmente ha una nostra capacità di proiettarci allora qualcuno lo fa per professione altri lo fanno sognando semplicemente e questo futuro è quello che in questo momento sta ritornando ad essere il centro un po' dei discorsi degli ultimi due tre anni nel senso che nel discorso delle città fino a poco tempo fa eravamo dentro a una bolla che si chiama presentismo nel senso che pensavamo solo al presente fermati lì e questo perché perché pensare al futuro è una cosa diversa difficile è estremamente complicata in un momento in cui le tecnologie per esempio hanno prodotto un'accelerazione incredibile nel senso che adesso la maggior parte penso di voi ha in tasca un oggetto che fino a poco tempo fa non pensava di avere potete guardare le email mentre io parlo perché magari sono poco interessante allora guardo le email sfoglio guardo twitter guardo cosa fanno i miei amici su facebook eccetera eccetera questa cosa fino a 15 anni fa avere fondamentalmente un computer in tasca era nei film cioè vedevamo nei film queste cose qui dove c'erano questi oggetti sempre un po' strani oppure pensate a skype io la prima volta che ho visto skype è stato in guerre stellari dove c'era Yoda che appariva davanti a me e non davanti a me sfortunatamente ma appariva così e Luke Skywalker ci parlava insieme beh io adesso lo faccio da Parigi con mia mamma che non è Yoda ma vorrebbe esserlo ma la cosa che è interessante è vedere che alcune cose che noi abbiamo visto nei film di fantascienza sono diventate un po' il nostro quotidiano e questo è da una parte molto divertente anche se non ce ne rendiamo veramente conto ma dall'altra parte hanno questa accelerazione questo fatto di poter fare le cose che Luke Skywalker faceva hanno ridotto rimpicciolito la mia capacità di proiettarmi nel futuro perché fondamentalmente come faccio io a sapere quello che succede l'anno prossimo se le tecnologie sono così veloci che dieci anni fa io avevo un telefonino che così lì che faceva che telefonare e adesso ma in meno di tre anni ho dei telefoni che fanno tutto questa cosa è un po' difficile e c'è questo piccolo paradosso per cui un'accelerazione tecnologica porta un rimpicciolimento della nostra capacità di proiettarci nel futuro allora non so se molti di voi ci hanno pensato questa cosa però culturalmente noi siamo dentro a un sistema che ereditiamo cioè nel senso che ereditiamo veramente come il colore degli occhi cioè non ci possiamo fare niente noi siamo dentro un sistema di pensiero qui in occidente per cui il futuro è sicuramente migliore sicuri nel senso che la tecnologia sarà sempre migliore noi saremo sempre migliori moriremo molto in maniera se saremo sempre più vecchi diciamo e tutto questo abbiamo in testa siamo dentro questo questo pensiero che è iniziato a un certo momento non è non ce l'abbiamo avuto sempre un certo momento c'è stata una rivoluzione intorno al 1600 in cui queste cose si sono cominciate a pensare così e quindi è un po' difficile scardinare qualcosa che è stato pensato così il problema è ok rendiamocene conto e tutto va bene il fatto è capire che siamo dentro a una costruzione cioè nel senso che noi pensiamo il futuro mettendoci dentro tutta una serie di cose e una di queste cose è la credenza quasi religiosa che il nostro futuro sarà migliore questo vi assicuro è almeno quattro secoli che lo pensiamo che il nostro futuro sarà salvato della tecnologia cioè la tecnologia e la tecnica che non sono la stessa cosa hanno in mano diciamo le sorti del nostro futuro chiaramente siamo noi che le produciamo però diamo a loro un po' il potere di fare in modo che il nostro futuro sia migliore e quindi le scoperte della scienza e quello e quell'altro che tutto è un po' legato a questa cosa ma e va benissimo nel senso che siamo dentro questa cosa però ogni tanto io penso sì dico certo adesso ho un telefonino che pensa benissimo è intelligente infatti è smartphone intelligente e mi dice dove sono sempre lui lo sa dove sono io ma certe volte io non lo so dove sono però lui lo sa quando io mi perdo lui lo sa dove sono io e pensa e mi dice che sono i miei amici eccetera eccetera e ogni tanto penso ma guarda dieci anni fa io non c'avevo un telefonino così e dieci anni fa però mi sapevo orientare molto di più forse cioè almeno mi sprecavo un po' di più a rientrarmi in città avevo i numeri di telefono dei miei amici a memoria cioè usavo un po' di più la mia testa e adesso la uso un po' di meno perché do al telefonino un pezzettino delle cose che dovrei fare io un po' come le mie segretarie personali in tasca e questo dare alla tecnologia e consegnare alla tecnologia quello che noi dovremmo continuare a fare come esercizio è qualcosa anche questo che fa parte di un sistema dentro questo sistema una cosa che è interessante è il fatto che il futuro quando pensiamo al futuro la città è sempre qualcosa che prendiamo subito come soggetto principale cioè raramente vediamo dei film di fantascienza girati in campagna in montagna, al mare, non li vedete? È in campagna, raramente sono tutti iperurbani cioè nel senso che abbiamo una rappresentazione di quello che sarà la città futura di quello che è il mondo futuro, scusate, estremamente urbano cioè siamo davanti a un'iperurbanità un'urbanità che però ha delle caratteristiche che sono sempre un po' le stesse una città di grattacieli o una città sotterranea pensate veramente ai film di fantascienza anche se non siete appassionati però ci sono dei film, Guerre Stellare, Blade Runner che rappresentano la città veramente in maniera stereotipata cioè nel senso che è una città quasi sempre illuminata quindi di notte con questi grattacieli infiniti dove le strade non si vedono spesso perché abbiamo degli auto volanti e quindi questa è un'immagine che è come una ricetta che noi facciamo sempre per rappresentarci il futuro perché vi racconto queste cose? perché nel 2007 a Parigi si è cominciato a parlare della grande Parigi forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare un grande progetto per pensare di nuovo il futuro della capitale durante quel periodo è stato fatto un grande concorso di architettura qualche architetto che aveva presentato e aveva e concorreva a questo concorso mi aveva chiamato per sapere se volevo fare parte della sua equip e a un certo punto ero molto contenta all'inizio che mi chiamassero io dirigo un laboratorio di ricerca all'università di architettura che si chiama architettura antropologia e a un certo punto mi sono detta no, non voglio fare parte di questo grande concorso ma non perché questi architetti che mi avessero chiamato non erano simpatici, gentili e quant'altro ma perché quello che mi interessava sempre più era vedere il processo che si stava mettendo in corso nel senso che mi rendevo conto che ero davanti a una possibilità di vedere qualcosa che si stava formando ma se stavo dentro a una di queste equip non avrei potuto vedere forse in maniera molto più generale quello che stava succedendo e quindi ho fondato qualcosa che si chiama Osservatorio della Grande Parigi che dal 2018 fino adesso lavora su questi processi cioè lavora su come la città si pensa nel futuro e la cosa interessante che noi abbiamo cominciato a fare è prima di tutto ho detto vabbè siamo dentro questa cosa della Grande Parigi guardiamo quello che gli architetti producono e quindi abbiamo lavorato due anni con gli architetti abbiamo cercato di capire abbiamo guardato tutto quello che producevano eccetera eccetera e ci eravamo veramente strabiliati della poca fantasia nel senso che ritrovevamo quelle ricette della città del futuro quindi grattacieli, illuminati certe volte c'era qualcosa che volava perché bisogna sempre fare qualcosa che vola certo molto ecologici adesso però vabbè però le macchine magari non vanno più a benzina vanno anche a pannelli solari però ci sono sempre le macchine e non vedevamo niente di particolare e quindi abbiamo detto ok cerchiamo di capire che cosa vuol dire questa cosa e quindi abbiamo cominciato visto che siamo in una città che ha un sacco di esperienza su questa cosa a vedere che Parigi è dal 1771 che si immagina nel futuro abbiamo scoperto che questa città ha una tradizione di futuro strana cosa tradizione di futuro nel senso che nel 1771 Parigi produce una prima ucronia cioè nel senso una prima trasposizione temporale verso un tempo molto lontano per vedere com'era questa società storia banale classicissima qualcuno si addormenta e si risveglia 1700 anni dopo e c'è questo libro che si chiama Parigi nell'anno 2440 scritto nel 1771 qualche anno prima la rivoluzione francese e così da lì abbiamo trovato 56 per il momento romanzi che trasportano Parigi nell'8545 nel 3222 eccetera eccetera una produzione incredibile di futuri fino agli anni 50 60 e poi sempre meno adesso sempre meno adesso non ce n'è adesso non c'è più un romanzo su Parigi nel 3200 c'è qualcosa che si chiama Parigi 2030 2030 è fra 15 anni cioè io ho 60 anni fra 15 anni è che sono vecchia e quindi abbiamo detto ma che strano cioè nel senso come è possibile che non si produca non siamo più capaci a produrre queste cose e quindi abbiamo detto no il nostro osservatorio deve fare un'altra cosa ancora non solo gli architetti non solo la storia del futuro ma dobbiamo andare a cominciare a guardare quello che la gente gli abitanti di Parigi pensano del futuro cioè nel senso che vogliamo capire qual è il significato e che cosa mettiamo dentro questa ricetta quando pensiamo al futuro della città e quindi abbiamo cominciato con il comune di Parigi a fare tutta una serie di ricerche su che cosa vuol dire abitare per esempio in altezza nei grattacieli oppure che cosa vuol dire essere in mezzo a delle trasformazioni urbane pazzesche e dentro queste ricerche quello che noi stiamo cercando di fare è capire come le persone possono sviluppare o possono riapprendere a fare quello che facevamo da ragazzini cioè proiettarsi ma tanto lontano al di là di noi perché proiettarsi nel futuro non vuol dire proiettarsi per la mia generazione vuol dire avere una coscienza su quello che altre generazioni potranno avere e questa cosa non è nel 2020 nel 2030 nel 2040 è cominciare a pensare a Parigi nel 3015 difficilissimo e quando facciamo questi giochi queste cose con gli abitanti di alcuni quartieri all'inizio c'è il gelo impossibile parlare di questa cosa e poi bisogna lasciare il tempo passare e questo diventa un esercizio della mente molto interessante è molto interessante per gli architetti è molto interessante per le persone che fanno la città per capire dove l'immaginario collettivo ci sta portando e quindi per chiudere a me piacerebbe molto che queste persone tutti voi pensaste a Verona nel 3015 grazie